Il futuro a cuore antico è questo il Leitmotiv che ha animato la Notte Nazionale del Liceo Classico, evento patrocinato dall'Associazione Italiana di Cultura Classica che si è svolto nella serata di ieri in centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale. Tra le scuole che hanno aderito all'iniziativa vi è anche il Liceo Classico Oriani di Corato che per l'occasione ha allestito un ricco e variegato programma che ha visto gli studenti protagonisti di performance di musica, teatro, cinema, letteratura ed arte. L'intento è quello di ribadire l'attualità e l'importanza della cultura classica, ritenuta ancora elemento fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. Una iniziativa che vuole essere un'opportunità di arricchimento per gli studenti e per quanti intervenuti hanno avuto modo di scoprire che il fervore culturale del Liceo Classico è ancora perfettamente intatto e presente. Purtroppo nella società attuale la cultura umanistica sembra essere una palla al piede, invece la cultura umanistica è viva e la dimostrazione la dà, la vitalità di questo Liceo Classico che ha un numero elevato di studenti è anche una qualità grossa a livello di insegnamento. In questo tipo di realtà scolastica si fa tanto e la loro attenzione è sul mondo, sul mondo costituito dalle arti, sul mondo costituito dalla musica, dalla storia dell'arte, dal greco, dal latino, dalla filosofia. Quindi seminari, dibattiti, rappresentazioni, presentazioni, esibizioni musicali, un contenitore nel quale mettere proprio in evidenza la creatività e la vitalità di una scuola che è al passo col tempo.